La nostra è un'organizzazione non profit che ha un obiettivo semplicissimo, promuovere lo sport. Ci piace metterci in gioco per fare sport, ma soprattutto per fare nuove amicizie, perché lo sport è uno strumento di socializzazione e di aggregazione meraviglioso per conoscere nuovi compagni di gioco. Siamo qua in via Moscova 26 a Milano, che è il nostro campo di gioco, dove ci sono tantissimi campi proprio per ospitare persone appassionate di sport. Abbiamo il calcio, il basket, il beach volley, l'atletica e tantissime altre discipline. Sono arrivato qui un anno, sette mesi fa, poi ho conosciuto Playmore. Mi piace venire qui a giocare a calcio, basket, a fare tutte le attività, poi ho iniziato a fare formazione. Sono Alessio Calciolari, lavoro in Decathlon dal 2003, presso la sede di Milano Portello. La collaborazione con Playmore inizia nel 2016, quando insieme alla Fondazione Decathlon abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, la costruzione della casa Playmore, una palestra polifunzionale che al centro Playmore serviva per poter garantire attività sportive di vario genere tutto l'anno. Ringrazio la Fondazione Decathlon perché ha creduto in noi e ci ha aiutato a costruire una palestra, che noi chiamiamo Casa Playmore. È un luogo al coperto di 100 metri quadri con il parquet e con dei bellissimi vetri in cui chi fa attività dentro può vedere chi fa attività sportiva sui campi e ci ha permesso di fare una cosa molto importante, di poterci esprimere sportivamente anche nelle giornate invernali perché ci ha dato un tetto. Nel periodo della pandemia abbiamo avviato un progetto di Blind Yoga dove appunto si fa sperimentare lo yoga da bendati ai partecipanti, facendo vivere tutte le sensazioni che si possono provare con l'utilizzo degli altri sensi. In questo luogo possiamo ampliare l'offerta sportiva della nostra organizzazione, con alla sera i balli, con il Fit for Fun che è muoversi a ritmo di musica, con il power training, con lo yoga, il pilates e tantissime, tantissime discipline. Per tutti, con una particolare attenzione per persone con fragilità. E quindi ci piace metterci in gioco tutti, al di là e oltre, le abilità, le culture, per mischiare persone diverse perché la diversità è una fonte di ricchezza. Grazie a Dedicatore, grazie a tutti che hanno fatto per noi.